E' una partita decisiva, quella che attende il Ciliverghe domani, con la trasferta di classe indicata come spartiacque per la stagione gialloblu. La squadra partirà oggi alla volta di Milano Marittima, dove soggiornerà in ritiro pre-gara, con il tecnico Carobbio che ancora una volta dovrà fare il conto con assenze importanti. Spareggio domani più di altri, ma sono tutti spareggi da qui alla fine per noi. Già come ho ripetuto più volte, dobbiamo guardare di partita in partita, domani è la seconda partita di questo nostro nuovo campionato. Dobbiamo cercare di raccogliere il massimo possibile, soprattutto domani, visto che domani affrontiamo la nostra diretta concorrente. Una squadra che si deve salvare è avere grande carattere, grande voglia e grande determinazione. Cosa che abbiamo messo in campo domenica scorsa, facendo una grande partita e vincendo meritatamente con una squadra forte. domani dobbiamo fare uguale e avere lo stesso atteggiamento, anche se affrontiamo una squadra meno forte quella di domenica. Perché sulla carta questo dice, ma ha solo 4 punti meno di noi e dovremmo riuscire a fare il risultato pieno in modo da distaccarli in maniera non definitiva, ma quasi. Complice l'assenza di Viotti sarà ancora Valtorta a difendere la porta gialloblu. Andrea, sono molto contento per lui, perché dopo l'arrivo di Sergio logicamente ha fatto qualche partita in panchina, però con l'assenza di Sergio si è fatto subito trovare pronto, facendo una grandissima partita, come tutti del resto. Però anche lui deve dare continuità alla sua prestazione, non deve pensare che si è fatto tanto domenica, ma il tanto è ancora da fare perché la strada è veramente lunga e anche lui deve dare il contributo, come tutti gli altri, continuando a fare una grande partita, una grande prestazione domani. Il Classe occupa l'ultima posizione in classifica, staccata di 4 punti dalla Ciliverghe e dalla ripresa del campionato è stata battuta 3-0 dal Fanfulla. Per il Ciliverghe è imperativo dare continuità di vittorie. Dobbiamo dare grande continuità, cosa che ci è mancata sempre quando facciamo un risultato positivo, sempre è mancato questo presupposto di continuità. Incontriamo una squadra sì che è ultima in classifica, ma che ripeto domani probabilmente penserà di essere all'ultima spiaggia, che è contro di noi e quindi darà tutto quello che ha per fare bottino pieno. Giocheremo su un campo difficile, brutto, anche molto piccolo e quindi sarà una grande battaglia e dovremo essere pronti ad affrontare un certo tipo di partita come questo che ho detto.